Torretta cecchino nemica rilevata Torretta assaltatrice traditori rilevata Torretta assaltatrice nemica rilevata Torretta artiglieria traditori rilevata Torretta artiglieria retica rilevata Segni vitali critici Drone restauratore traditori rilevato drone restauratore nemico rilevato agente neutralizzato a gente fuori combattimento agente ucciso a un agente serve aiuto minar ricerca esplosione aerea traditori rilevata minar ricerca esplosione aerea nemica elevata torretta artiglieria traditori rilevata torretta artiglieria rilevata minar ricerca esplosione aerea minar ricerca e perda minar bicara minar ricerca Agente traditore eliminato.